Buongiorno, benvenuti. Questa è la sedia stampa di oggi, lunedì 17 dicembre. Mi raccomando, questa sera non prendete appuntamenti, non c'è nulla da fare se non vedere Quarta Repubblica. In prima serata, a Rete 4, ci sarà Matteo Salvini questa sera. Quindi alle 9.30 con Matteo Salvini cercheremo di capire che diavolo hanno combinato ieri sera in questo vertice di Palazzo Chigi. Quello che si trova e si vede sui giornali oggi è la seguente cosa e che avrebbero rinunziato un po' Matteo Salvini, un po' Luigi Di Maio alle previsioni di spesa per i due loro interventi bandiera. Quindi sarebbe sceso a 7,1 miliardi, di cui un miliardo da dedicare ai centri per l'impiego, la previsione per il reddito di cittadinanza. Siamo passati da 17, dunque a 6 netti. E invece per quanto riguarda quota 100, ma questo Durigon, sottosegretario del lavoro, ci lo aveva raccontato spesso, ieri lo diceva sul messaggero e comunque lo ha sempre detto, in realtà si spenderà molto meno perché l'idea è di spendere 4 miliardi, 4 miliardi e mezzo perché sia il cumulo, sia le finestre, insomma tutta una serie di cose faranno sì che in realtà la quota 100 varrà per molte meno pensone di quanto ci si immaginasse. Spunta ed è una pessima sorpresa, secondo me è ridicola perché l'ultimo a farla, buongiorno Enrico, fu esattamente il governo Monti, la solita tassa, ecotassa, perché la tassa deve essere ecologica quando riguarda le auto di lusso. Allora a me non me ne fotte nulla delle auto di lusso, chi ha le auto di lusso si facesse gli affari suoi, ma le auto di lusso come dimostra oggi qualsiasi giornale in cui si vede la pubblicità della Maserati Levanto con scritto sotto lusso, un SUV, sono fatte spesso in Italia, le Ferrari sono fatte in Italia, la componentistica della Porsche è fatta in Italia, la Maserati ha rimesso in piedi un impianto in Italia, quindi il nostro paese distrugge il suo mercato domestico dei SUV e delle auto di lusso come se chi spendesse 100 mila euro, 120 mila euro, cioè li spende, non li guadagna, fosse un truffatore. Ecco questa logica della minchia, che è la logica di Monti, è esattamente la logica di Di Maio ed è la logica di questo governo per cui noi tassiamo i SUV di lusso per defiscalizzare le auto elettriche di lusso. Complimenti, bravi, siete dei fenomeni, quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno tolto la tassa, diciamo populista, sulle Panda, ma l'hanno messa sulle Maserati. Saranno dei fenomeni, la gente correrà a comprare le Maserati per finanziare queste tasse di lusso, comunque è la logica di Monti, né più né meno. Fra un po' mettetevi anche la tassa sulle barche di lusso, come fece Monti, poi mettetevi anche la tassa in più sulle sigarette, come hanno fatto gli ultimi 50 governi. Già avete messo quell'assurda tassa per cui ha distrutto il settore dei giochi, quelli regolari, come se noi si continuasse a giocare, ma non più in quelli regolari, ma in quelli irregolari che continueranno a esistere, basta consultare il telefonino. Vabbè, ma questa è la logica di questo governo e andiamo avanti su queste minchiate. Poi però leggi Fubini, oggi, e Fubini oggi, su Corriere della Sera, cioè Monti, stiamo parlando dell'Eurocrate che scrive per il Corriere della Sera o è il Corriere della Sera che scrive per gli Eurocrati, non si capisce, oggi ci spiega, dopo che hanno fatto questa manovra, a Bruxelles c'è ancora dello scetticismo e non contento sullo scetticismo che c'è a Bruxelles, invece di difendere la posizione italiana, del giornalista italiano che dice avete rotto le palle, pensate ai francesi semmai, non pensate a questa sorta di Italia, qui si stanno cercando di mettere comunque le cose meglio rispetto a come sono partiti, dice ci sarà una grande incertezza sui mercati, gufandola. Allora, Renzi mi abbia detto il gufo e adesso ci sono tutti quanti quelli che sono contenti perché i mercati magari bocceranno questo nuovo tentativo dell'Italia di rimettere i conti. Io non sono tra coloro, io penso che sono dei cazzoni se mettono la tassa sull'eco-tassa, penso che la decidenza sia una banale, imbarazzante misura assistenziale, ma non posso riconoscermi in quello che gode ogni giorno del fatto che i mercati non vanno bene, che l'Europa è scettica, chi se ne frega? Ma chi se ne frega di Juncker che dice che è fumosa la May o Juncker che con passo instabile non gliene sta bene una? Mentre nel frattempo Moscovici e Juncker davano 40 miliardi di flessibilità ai governi Gentiloni e Renzi perché socialisti come loro. E lì non c'era Fubini che diceva guardate che state facendo debito, non c'erano questi qua che erano tutti preoccupati perché bastava allora che si congegnasse l'asse, diciamo, politica italiana, eurocrati e tutto andava bene. Eravamo noi che facevamo gli euroscettici. Ieri al vertice, questo è un dato molto importante, non ha partecipato Giorgetti che era quello che aveva detto una cosa molto sensata nei giorni scorsi, cioè che il regno di cittadinanza piace alle persone che non piacciono. Bellissimo perché in questa manovra riescono a rimediare un po' di quattrini che vedrete saranno centinaia di milioni, nel frattempo tassano le Maserati ma dall'altra o le Ferrari, che dite ah siete tutti contenti, io no, da una parte tassano loro e con quelle tasse li danno a Roma per recuperare i soldi per le buche. Per l'insipienza di vent'anni di gestione romana la paghiamo tutti noi contribuenti per quale motivo? Per le buche di Roma, che questi qui non sono riusciti, appalti, non appalti, ladrocini, furti, incapacità di gestione, quello che cavolo volete voi, Roma è un disastro e la paga tutta Italia. Ma il problema è che questa finanziaria non appena pagherà le buche di Roma, accordo di ieri sera, la prossima finanziaria, ci metto la mano sul fuoco, ma prima della prossima finanziaria dovrà pagare l'emergenza rifiuti di Roma, perché Roma è la città che non vuole i termorizzatori, non vuole i trito, insomma avete capito quello che separa il talquale, insomma non le vuole, e allora siccome loro non le vogliono, come i napoletani non le vogliono, il resto dell'Italia deve pagare per la città che vuole i rifiuti zero e della minchia. Taglio alle pensioni d'oro, Di Maio ottiene quello che aveva ottenuto e aveva richiesto, cioè che si tagliano fino al 40% per quelle 23 persone che guadagnano più di 500 mila euro di pensione all'anno, quindi noi stiamo facendo tutto questo casino, tutti i titoli sulle pensioni d'oro per 23 persone che guadagnano più di 500 mila euro all'anno, quello che invece guadagna un poliziotto, un dirigente 100 mila euro dopo 40 anni di servizio, anche a lui gli tagliano di 10-15% la pensione perché si sostiene che non se la sia guadagnata. Sul carabiniere oggi quello che indietreggia, inciampa e tira in maniera tremante la mano con la pistola fuori, i giornali, soprattutto il giornale fa un fondo con Zurlo che dice l'idea della legalità eccetera. Io oggi se mi posso permettere una volta in dissenso con il giornale direi che è l'immagine di un carabiniere che arretra, capisco che è difficilissima, bisogna struvarcisi dentro, la lucidità è difficile da avere, però per me l'idea è che il carabiniere spara, va bene? Ve lo voglio dire, il carabiniere spara, se un carabiniere ritira una bottiglia addosso deve essere legittimato, questo poi se avesse sparato avrebbe finito come quello che ha ammazzato Giuliani, avrebbe finito nel casino più totale, ma se si tira una bottiglia addosso a un carabiniere il carabiniere spara, questo è avviere in un paese normale, non è legittima difesa, è rispondere ad un'aggressione, non un poliziotto o un carabiniere che è osannato dalla destra del giornale, dal giornale Ministri, secondo me questo non è un atteggiamento normale, l'idea che un poliziotto possa arretrare un carabiniere, ma voglio dire, va benissimo così per carità, non voglio augurare nessun incidente da nessuna parte, però l'idea che io ho dei carabiniere e dei poliziotti è che non gli si tirano le bottiglie addosso e se gli tira una bottiglia addosso sono cavoli tuoi. Fico oggi, Presidente della Camera, chiede scusa per l'accomportamento che hanno avuto il suo partito sulla TAP e sul terzo valico, perché ovviamente le hanno fatte grazie al cielo, perché l'analisi costi benefici non poteva interrompere qualcosa che era già iniziato e dice dovremmo chiedere scusa ai nostri elettori. Fico tra l'altro è presente alla Camera, secondo quanto risulta il fatto quotidiano, insieme a Renzi e Boschi non avrebbe presentato quello che è un obbligo di legge, cioè ha presentato i suoi dati sulle visure camerale, quanto guadagna le società a cui appartiene, la sua ricchezza, perché una logica di trasparenza vuole che i parlamentari lo dicano e lo mettano a verbale alla Camera, questo non lo avrebbero fatto né Renzi né Boschi, ma soprattutto Fico, l'uomo della trasparenza, onestà, onestà, mi sembra una cosa incredibile, Fico e Co, dice il fake quotidiano, speriamo sia vera questa, non danno i loro dati. Nel frattempo scopriamo un altarino di quel genio del padre di Battista, dovete sapere che il padre di Battista ha un padre che è un personaggio un po' particolare, uno che mi insulta un giorno sì, un giorno no, considerandomi una sottospecie di porro, questo è il modo in cui lui mi chiama, la sottospecie del padre di Battista, un fascistello, perché veramente un fascistello senza molto cervello, forse ha utilizzato troppa ecstasi nella sua vita, il papà di Battista che fa il moralista, andiamo al Quirinale, distruggiamo, facciamo la rivoluzione, non paga i debiti, non paga i debiti, una società che si occupava di cessi, almeno così sembra secondo lo scoop del giornale, costruiva impianti sanitari e ha 60.000 euro di debiti nei confronti dei dipendenti, cioè non paga gli stipendi dipendenti, TFR, non so cosa siano, non paga i debiti alle banche, non paga, e quelli fanno i moralisti, questi hanno le società che fanno i buffi e fanno i moralisti, io la trovo fantastico, questa sottospecie di imprenditore che si chiama papà di Battista che in maniera sconclusionata dice cose sconclusionate in giro per le piazze, non paga i debiti, ma benissimo, non pagate i debiti, fate quello che volete, però la sottospecie non sono io, è lui, la sottospecie di imprenditore, va bene? Io fino a prova contraria i debiti li pago. Daniela Ranieri, divertente oggi, che ritorna sulla questione della morte del povero Antonio, l'euro retorica con cui tutti quanti raccontano la morte di questo giornalista e invece sempre a proposito di ironia, anche se un tema diverso è quello di Belpietro, sul risultato televisivo di Renzi l'altra sera alla 9 che dice Renzi flop, la sua programma ha fatto meno, non so di quale altro programma, a me parlare delle disgrazie televisive degli altri mi spiace sempre, devo dire che Renzi se l'è cercata perché quando lui era presidente del Consiglio ci prendeva tutti in giro per i nostri ascolti, quindi un po' ci sta che qualcuno gliela renda, non gliela renda io perché vi dico la verità, bisogna stare sempre attenti sugli ascolti in televisione perché chi fa il fenomeno poi dopo alla fine prima o poi un inciampo lo prende, sfera e basta un esercizio letterario oggi di Davenia in cui non si capisce assolutamente nulla, quando uno scrive troppo per il piacere di scrivere e non per dare un senso e un significato ai suoi articoli rischia di fare quella paginate che Davenia sta facendo sul Corriere della Sera, ottimo scrittore magari ottimo professore di lettere, ma devo dire la verità, pezzi che io non comprendo dove inizino e dove finiscano. Io direi che per oggi è tutto, questa sera alle 21.30 Rete 4 Matteo Salvini e insieme a lui Toninelli, poi vedremo Sallusti, poi vedremo tanti altri ospiti per una puntata che sarà sicuramente l'ultima di quest'anno ma sicuramente interessante, almeno così me lo auguro giustissimo che Carabinieri dovesse sparare, sono d'accordo, e poi il Carabiniere, I agree with you, Francesca è arrivata, ciao Francesca, che imprenditori sono prenditori, zuppa ci basta a noi, no Françoise stasera si rivedrà a televisione, non basta la zuppa, mi raccomando, e io direi che a tutti quanti voi Davenia ha scritto un bell'articolo, cosa non si capisce, dice Simone Cibin, beh che ti devo dire, io non capisco dove vuole arrivare, cosa vuol dire il senso di quest'articolo, se a te ti è piaciuto sono molto contento che a te ti sia piaciuto. Io ho appena arrivata come basta, buongiorno Nicola, ecco, bravo, non stare contro Renzi, non ho capito cosa vuol dire neanche questa signora, povero Renzi deve fare un secondo lavoro per pagare il mutuo della villa, non trovo che la cosa sia di per te disdicevole, se così fosse. Ciao, a questa sera.